La punta dell'iceberg del discorso di Moro, con cui stava portando avanti, era quello di aprire al Partito Comunista. Questo era ciò che in quel momento... Dico, ma a un certo punto Moro va a fare i conti con i maggiorenti del partito, basti pensare a quelli che avevano le teste, quelli che contavano molto, i vari Moro, i vari Fanfani, Andreotti, Don Accatteri, che pure era considerato abbastanza sinistra, lui che era molto vicino al mondo del lavoro e così via. Come mai Moro è riuscito a fare qualcosa che oggi non esiste più, perché diciamo prima il mondo è cambiato, però allora se ci pensiamo bene, nel film che è stato fatto su Aldo Moro si vede benissimo, un signore che si presenta, dice io vengo da parte degli Stati Uniti, in maniera molto informale, ma lei non deve farlo, sia attento perché chissà cosa... E allora la minaccia del genere poteva suonare abbastanza pesante. anni 60 e 70, dove l'America, e noi oggi vediamo quello che sta succedendo in America, l'America uccide il Presidente degli Stati Uniti, non è che stiamo parlando di un'epoca dove ci sono solo i Beatles, il rock and roll, la minigonna, il sesso libero, quindi quei mitici anni 60, Moro quando parla del 68, prima Massimo Desimoni ha colto il punto, non ne parla per una questione di protocollo, lui si trova di fronte, è un insegnante universitario, lui non smetterà mai di fare il professore universitario, si trova di fronte all'Università di Roma ad una esplosione di protesta e lui è Presidente del Consiglio, tutte le testimonianze dicono che la sua preoccupazione fosse in quel momento di capire cosa stava succedendo e cerca il colloquio con i capi del movimento studentesco per tenere viva una relazione, lui da Presidente del Consiglio è come se oggi il Presidente Trump di fronte all'episodio drammatico invece di irrigidirsi e di minacciare avesse compiuto un gesto di più alta umanità e fosse andato ad incontrare la famiglia della vittima. Cioè questo è Moro, cioè rovescia un'impostazione. Il Partito Comunista compie una scelta nel 68 che poi diventa l'asse su cui lavorerà negli anni successivi, cioè quella di raccogliere la bandiera del 68 e Moro vede questa operazione, se si legge bene il pensiero di Moro, quello che dice, la vede come un'operazione per un verso inevitabile perché è un partito d'opposizione, è il più grande partito d'opposizione e quindi naturalmente cerca di interpretare la protesta, ma vede anche il pericolo nel modo con il quale il Partito Comunista raccoglie quella sfida perché intuisce che vi è una semplificazione. L'intelligenza di Moro sta nel fatto che non gioca sulla distinzione tra il momento sociale, cioè la protesta, con la quale magari trovare delle forme di dialogo, e il momento politico, cioè l'interpretazione che di questa protesta dà il Partito Comunista e in quella sede rifiutare ogni confronto. Lui fa un'equazione molto semplice, così come è necessario dialogare con la gioventù che protesta nell'università, bisogna che il dialogo diventi anche dialogo politico con chi ha in mano la capacità di interpretare quella spinta. Ed è naturale che la più grande forza d'opposizione carica di un'ideologia di speranza. Il Partito Comunista, il comunismo, è stata anche una religione, una religione laica. E quindi Moro dice io devo parlare ai giovani, devo parlare al mondo che cambia, non solo ai giovani, agli operai, alle donne. Moro fa un riferimento a quel movimento di liberazione della donna, siamo nel 68, ma dice dobbiamo parlare e capire che cosa noi possiamo fare con il partito che è sempre stato il nostro antagonista. Quindi non banalizza. Non dimentichiamo che c'era anche un problema religioso alla base, no? L'ateismo... Non banalizza, non è che dice le differenze non ci sono. Moro è uno che mantiene fino in fondo, e fino all'ultimo, il senso della distinzione della democrazia cristiana dal Partito Comunista. E terminerei dicendo questo. Il termine, il termine che noi usiamo anche oggi, il compromesso storico, che fu la formula adottata da Berlinguer per dire dobbiamo realizzare un accordo strategico, storico, con la democrazia cristiana. Ecco, Moro non usò mai quella formula, perché vedeva un pericolo macroscopico, cioè quello di confondere maggioranza e opposizione mettendo tutto insieme e quindi indebolendo i cardini, distruggendo i cardini della democrazia. Moro diceva dobbiamo dialogare, trovare le ragioni per capirci, per cambiare un po' noi nel dialogo con gli altri e per fare in modo che gli altri, cioè i comunisti, cambino grazie al dialogo con noi. Ma poi, ecco il passaggio cruciale, poi rimane il fatto che queste due grandi forze popolari dovranno tornare di fronte all'elettorato dopo questa capacità che manifesteranno di intendersi sulle ragioni profonde della democrazia, dello Stato, delle istituzioni, delle libertà e raggiunto un quadro di stabilità e di sicurezza democratica, allora il confronto elettorale... che si poteva anche pensare a un'eventuale alternanza. Si sarà la possibilità di un'alternanza senza rischi per la democrazia. Potrà governare il Partito Comunista con i suoi alleati anche se tutte le testimonianze dicono che lui prefigurava un nuovo 48 dove la democrazia cristiana avrebbe combattuto per sconfiggere il Partito Comunista. Quindi questa è la capacità e la ricchezza dell'argomentazione di Moro. De Simoni, come mai il Partito Comunista che in molti davano in crescita, in forte crescita, ha accettato questa soluzione che sicuramente ha scontentato una parte forse anche consistente dei suoi iscritti e del suo elettorato. Conveniva al Partito Comunista fare questa fusione in un momento in cui, ripeto, sembrava che potesse far forse se non in sorpasso ma quantomeno poteva affiancare la DC in quanta voti. Tutti parliamo sempre di Moro. Vediamo perché i comunisti tendevano ad accettare seppure ho torto collo come si dice. Dunque, non so valutare in termini di convenienza però quella scelta di Moro ha un percorso di maturazione per cui nel 76 all'indomani delle elezioni c'è un discorso che viene fatto da Aldo Moro che viene ricordato come il discorso dei due vincitori in cui sostanzialmente Moro dice qui non c'è più un solo primato e cioè quello del partito di maggioranza relativa che conferma il suo primato in termini di voti come partito di maggioranza relativa ma c'è anche il primato di un partito che comunque cresce che segna un avanzamento importante e significativo del quale non possiamo non tener conto se la politica significa rappresentare le istanze del corpo elettorale diceva bene prima contestualizziamo anche il periodo storico cosa accadeva in quel periodo in quel periodo ogni governo che si presentava con il suo programma al Parlamento aveva tra le priorità assolute quella della lotta al terrorismo quello del problema dell'occupazione e aveva l'altro tema importante della lotta all'inflazione oggi non è più un tema nei programmi dei governi perché addirittura oggi ci spiegano che per favorire una ripresa economica serve un po' di inflazione e oggi si fatica a ricordare che in quel momento l'inflazione era due cifre ed era un problema serio perché in effetti l'inflazione che è anche chiamata l'iniqua tassa è una tassa che va a penalizzare le fasce sociali più deboli e più povere per cui la lotta all'inflazione era un problema ma era un problema anche perché produceva debito pubblico l'inflazione l'inflazione significava alti tassi per remunerare i titoli di debito pubblico per farli acquistare dal mercato e quindi significava debito pubblico diciamo che poi oggi ne paghiamo un po' le conseguenze di queste scelte e di quelle difficoltà che abbiamo attraversato in quel momento di fronte a questi problemi che erano problemi seri perché noi oggi parliamo di Moro e quindi ricordiamo l'assassinio di Moro e dei suoi cinque uomini di scorta ma in quel periodo di vittime ce ne sono state tante giornalisti sindacalisti semplici operai che avevano la colpa di difendere un sistema di rappresentanza democratica dei lavoratori magari all'interno di una fabbrica quindi il terrorismo era un problema serio che non riguardava soltanto la classe dirigente del paese al massimo livello cioè non riguardava soltanto Aldo Moro e qualche altro politico Moro di fronte a queste emergenze del paese e chiaramente si pone la questione di dire ma queste emergenze cerchiamo di affrontarle insieme e allora ecco qui l'altro torto che viene fatto a Moro nel dipingerlo come c'è l'uomo del compromesso ma non è l'uomo del compromesso è l'uomo della ricerca della sintesi sulla base di quello che è un valore fondante del cattolicesimo democratico che è quello della mediazione laddove è bene ricordarlo la mediazione non è un concetto geometrico per cui se io voglio andare a destra tu vuoi andare a sinistra andiamo al centro e siamo contenti tutti e due ma la mediazione ripeto valore fondante del cattolicesimo democratico ma quale faceva insomma era iscritto in termini culturali e politici anche Aldo Moro la mediazione significa riconoscere intanto la legittimità all'interlocutore anche se portatore del conflitto significa riconoscere un punto di ragione anche al portatore del conflitto e da lì parte il confronto che porta alla sintesi Moro è questo ecco perché io trovo sempre in generoso quando in ricostruzioni un po' superficiali un po' sintetici diceva Moro era l'uomo del compromesso laddove poi l'accezione di compromesso viene sempre declinata in forma negativa perché poi il compromesso significa l'inciucio significa l'impiccio significa l'accordicchio no la mediazione alla quale lavorava Aldo Moro era una sintesi alta di quelli che potevano essere gli interessi del paese in quel momento la scena è una chiesa Moro sta inginocchiato dietro di lui due uomini della sua scorta giù ce ne sono altri due vicino alle macchine Moro finisce di pregare si alza si avvicina un sacerdote ci senti i filiologi ma caro fratello tu sei sicuro di quello che stai facendo vuoi portare i comunisti al potere ma quasi sai non credo che noi siamo d'accordo ora questo è descritto dalla scena di un film quindi probabilmente non è vero sono inventati gli sceneggiatori però potrebbe essere successo a questo punto la domanda è Moro la chiesa il partito dei cattolici i rapporti fra di loro i rapporti fra i cattolici il partito e il partito comunista queste ricostruzioni però dimenticano un passaggio che pesa molto perché nel marzo del 77 quindi siamo appena ad un anno dalla tragedia della tragedia di Via Fani dal repimento per sequestro sulla vicenda Lockheed che significa uno scandalo internazionale la Lockheed questa società Repubblica accusò Moro di essere lui il ma Repubblica perché c'era tutto un mondo Antilope si ricorda Antilope Copler era il nome in codice quello che prende la mazzetta e qualcuno disse quindi era Aldo Moro poi altri dissero che era Leone e vabbè e Moro rimane sconcertato perché il partito comunista assume di fatto questa ipotesi di di reato attribuibile attribuibile a Moro e nelle aule parlamentari porta avanti un disegno di attacco frontale siamo nel 77 cioè un anno prima dopo le elezioni si costituisce il governo per semplificare molto di solidarietà nazionale si chiamerà il governo della non sfiducia però in Parlamento anche il partito comunista evita di formalizzare l'opposizione e man mano si cerca di trovare un assetto per evitare di tornare subito alle elezioni per evitare che il paese precipitasse nella ingovernabilità in quel momento nel 77 in aula Moro è costretto ad alzarsi e fa quel discorso che è mirabile sotto il profilo estetico ma di una durezza politica che non dovremmo assolutamente dimenticare di lì a un mese e mezzo nel libro mi sono sforzato di ricostruire questo passaggio Moro partecipa al congresso dei giovani democratici cristiani il sottotitolo del libro il giovane Moro appunti sul giovane Moro ma potrebbe essere più esteso è il giovane Moro ed è il Moro che parla ai giovani cioè Moro ha questa costante ebbene dopo questo discorso molto duro la famosa frase non ci lasceremo processare sulle piazze voi avete minacciato di di processare la democrazia cristiana sulle piazze noi vi rispondiamo non ci lasceremo processare nelle piazze di lì a un mese e mezzo ai giovani democristiani a Bergamo nel suo discorso fa una serie di passaggi in cui rimprovera duramente al partito comunista anche se lo edulcora queste affermazioni sono edulcorate gli dice ma voi avete la responsabilità di radicalizzare il confronto politico state utilizzando questo passaggio democratico così complesso per mettere in discussione l'identità della democrazia cristiana e l'invito che lui rivolge ai giovani del partito è un invito interessante questo a riscoprire le radici culturali dell'esperienza democratico cristiana e dice espressamente dobbiamo tornare a leggere i nostri autori Jacques Maritaine fa tutta una serie di citazioni allora Moro non è questo personaggio che si adatta delle circostanze che cerca semplicemente di benedire ciò che avviene è l'esatto contrario Moro è un combattivo Moro è un tenace assertore di una linea politica che evidentemente è parallela a quella del partito comunista il punto di congiunzione è laddove il partito comunista con Berlinguer nel teorizzare la strategia del compromesso storico fa un'affermazione importante dice perché bisogna realizzare il compromesso storico Berlinguer risponde perché non si può governare una società democratica complessa evoluta col 51% ora questo è un insegnamento per l'oggi perché noi siamo arrivati a un punto ci siamo dentro da 20 anni o 25 in cui abbiamo coltivato l'illusione che anche con il 44 45% grazie a un sistema elettorale che garantisce un premio un premio di maggioranza come si dice si possa governare il paese aveva ragione Berlinguer e aveva ragione in parallelo Moro a cogliere questa verità se tu non hai un largo consenso ti puoi illudere che la maggioranza parlamentare sia sufficiente ti puoi illudere che in un consiglio comunale pensiamo al nostro consiglio comunale di Roma siccome la legge elettorale ti ha regalato la maggioranza assoluta anche se tu hai solo il 30% dei consensi in città tu interpreti una volontà maggioritaria della città non è così e allora la ricerca di una maggioranza più ampia rispetto al 51% oggi noi questo discorso lo ascoltiamo con fatica perché pensiamo che basti un deputato in più ma questa è un'illusione l'Italia è un paese con una lunga tradizione una lunga storia e con una fragilità sono parole di Moro per cui la fragilità delle sue istituzioni obbligano a pensare sempre che attorno alle grandi scelte ci debba essere un consenso adeguato cioè un consenso più ampio rispetto alla semplice maggioranza numerica del 51% questa è una lezione che vale per l'oggi e se posso è talmente vero e corretto quello che adesso ricordava il senatore Dubaldo che se questa cosa rappresentava un limite il fatto di poter pensare di governare un paese con il 51% era un limite quando il corpo elettorale votava con percentuali che andavano intorno al 90% c'era un'affluenza alle urne massiccia da parte degli elettori pensate cosa significa oggi immaginare di poter governare un paese con un 40% quando oggi vota poco più della metà degli eventi di diritto al voto in effetti significa che qualcuno potrebbe tentare di governare il paese con il consenso di meno della metà degli eventi di diritto al voto perché alle ultime elezioni europee ha votato poco più del 50% degli eventi di diritto però il paese deve essere governato il paese allora che la gente non va a votare che facciamo lasciamo al governo precedente che peraltro è stato eletto non lasciamo al governo precedente ma la scelta che deve essere fatta ed è una scelta di fondo non è una scelta che può essere fatta ogni settimana o ogni mese è una scelta di fondo capire se la politica deve avere un carattere inclusivo oppure no perché il ragionamento che adesso ricordava il senatore Dubaldo il ragionamento di Moro era sempre all'insegna dell'inclusività cioè della composizione seppure nella diversità ma della composizione degli interessi attorno ad un obiettivo comune che doveva sempre avere un carattere strategico una visione di futuro e questa è la politica inclusiva diceva Moro posso darti dalle ragioni con una sottolineatura se posso questa inclusività Moro la definiva in modo straordinario perché l'episodio che va focalizzato per cogliere l'aspetto che stiamo dicendo è il famoso congresso in cui lui convince tutti in terra la democrazia cristiana come no? che fosse necessario l'accordo di governo con i socialisti quindi prima prima dei comunisti quindi era una svolta perché fino ad allora i socialisti erano rimasti alleati dei comunisti all'opposizione e la chiesa era contraria c'era una resistenza si diceva gli Stati Uniti sono contrari Moro riesce in questo miracolo politico chi gli si oppone in congresso a Napoli nel 62 è un grande personaggio che allora aveva un peso Mario Scelba collaboratore di De Gasperi amico quindi amico di Sturzo un personaggio importante ministro degli interni dal 48 in poi Scelba non è d'accordo sulla scelta sulla ipotesi non è d'accordo nel disegno correntizio però Scelba era diciamo all'estremo a destra era la destra la destra democratica una destra lui l'accordo con i socialisti lo considerava un errore politico e in congresso spiega le ragioni quel discorso di Scelba è molto interessante perché ci si accorge della ricchezza della motivazione Moro e qui arrivo alla questione cruciale dice una cosa importante nella replica dice le minoranze l'opposizione non solo va rispettata perché è giusto in democrazia rispettarla ma l'opposizione svolge un ruolo addirittura più importante della maggioranza perché la maggioranza ha conquistato il consenso per questo è maggioranza e deve adempiere alla sua azione responsabile perché ha detto una cosa su quella cosa ha raggiunto il consenso adesso la deve realizzare in un certo senso la maggioranza è risocchiata dall'attività pratica la minoranza l'opposizione invece per conquistare il ruolo domani di maggioranza deve guardare al futuro deve criticare ciò che fa oggi la maggioranza individuando una prospettiva futura quindi il suo sforzo non solo è valido per sé come opposizione ma è valido per tutto il partito diceva Moro ora immaginiamo questo ragionamento applicato all'oggi oggi noi siamo purtroppo tentati costantemente di liquidare il dissenso con una spregiudicatezza ed una semplificazione che immediatamente sembra confacente al bisogno di governabilità comando io tu dici una cosa io te la nullifico te la contesto poi ci accorgiamo che questa mancanza non solo di rispetto ma anche di riconoscimento vivo del tuo ruolo di opposizione danneggia l'intero corpo politico danneggia le istituzioni le indebolisce non gli fa non gli fa avere quella come possiamo definirla quella linfa vitale per cui oggi governi tu domani governo io e finalmente da 25 anni a questa parte dopo la caduta del muro noi siamo arrivati all'alternanza però ci siamo arrivati con questo limite inaccettabile per cui comando io e tu non sei niente e se tu sei all'opposizione non fai altro che radicalmente contestare e questo così non funziona non può funzionare c'è un'altra una frase di Moro che testimonia come dire la sua il suo approccio inclusivo e anche il rispetto che adesso veniva ricordato dal senatore Dubaldo per le forze di opposizione Moro c'è una frase sua bellissima in cui dice di noi si fidano anche quelli che non ci votano perché sanno che terremo conto anche delle loro ragioni e questa è una frase bellissima bellissima perché dà proprio l'idea di una politica che non tende ad escludere ad uccidere l'avversario a mortificarlo a marginalizzarlo rispetto alla vicenda politica e alle scelte ma pensate è bellissima questa frase di noi si fidano anche coloro i quali non ci votano perché sanno che terremo conto anche delle loro ragioni questa è la politica fatta con senso delle istituzioni questo si ricollega anche al titolo di questo libro amare il nostro tempo amare la nostra gente amare il nostro paese è una frase e poi è un'espressione che nasce a Roma perché la prima volta viene pronunciata dal sindaco che gli americani il giorno della liberazione di Roma uno dei primi atti che viene fatto e svolto insomma è quello di insediare il sindaco e viene nominato come sindaco uno della famiglia storica di Roma Doria il sindaco Doria e lui si affaccia in Campidoglio mi pare il 6 di giugno la liberazione è del 2-4 giugno quei due giorni cruciali lui si affaccia e alla fine dice insomma come fanno poi gli aristocratici che amano usare il dialetto dice volemose bene quando Papa Giovanni Paolo II si rega in consiglio comunale e ripete questa frase sapeva bene che in realtà non è un'espressione popolare è un'espressione popolare che nasce da questa affermazione del sindaco Doria e il Papa di lì a qualche giorno nel 44 riceve in udienza i consigli non erano consiglieri eletti ma era una giunta provvisoria con il sindaco e fa un discorso sull'amore quindi parliamo del giugno luglio del 44 a dicembre del 44 il vescovo Mimmi fa la sua lettera pastorale che abbiamo ricordato Moro in quel periodo parla di amare il nostro tempo lui è dentro questa vicenda abbiamo parlato questa sera di Aldo Moro del libro del senatore Dubaldo Amare Moro Amare il nostro tempo abbiamo parlato con Massimo Lecimoni il presidente dell'associazione etica abbiamo parlato con il senatore Lucio Dubaldo un discorso un discorso molto interessante anche perché più volte è stato calato nel nostro tempo quindi le idee di Moro come sono ancora oggi vive dopo di noi una trasmissione sempre di non solo politica registrata qualche giorno fa e si parla insieme all'avvocato del Belvis e all'avvocato e al giudice Roberto Vitalone si parla della situazione della giustizia e al tempo del Covid che adesso è quasi cessato ma si parla soprattutto delle situazioni attuali e di altre questioni che riguardano naturalmente la giustizia grazie ai nostri ospiti grazie a voi per il cortese ascolto arrivederci sempre nella prossima trasmissione magari neanche di prossimo sempre alle 22 buonanotte grazie a tutti